Un inno di pace con le note dell'amore è il titolo del concerto di fine anno scolastico 2021-2022 del liceo musicale Alfonso Gatto che si terrà nel cortile all'interno della sede di staccata di via Pio X giovedì 9 giugno alle ore 19. La scuola, culla e presidio di legalità vuol far sentire la sua voce attraverso la musica per invocare la libertà, la pace, il rispetto della vita e della dignità umana e per educare le nuove generazioni ai valori della fratellanza e della solidarietà. Abbiamo nella nostra scuola studenti e studentesse di origine ucraine che si distinguono per le loro eccelse competenze musicali e vogliamo dedicare questo concerto a tutti i profughi presenti sul nostro territorio come se fosse un abbraccio, una speranza, afferma il dirigente scolastico Anna Vassallo. Il coro diretto dal maestro Gaetano Santucci, l'orchestra sinfonica diretta dal maestro Alessandro Schiavo, l'orchestra d'archi diretta dal maestro Marinella Miceli, l'orchestra Fiati diretta dal maestro Ivan Barilà e dal maestro Emilio Chirico presenteranno al pubblico un ricco programma che spazierà dalla coralità gospel al musical, dalle colonne sonore ai grandi classici della musica lirica e sinfonica, dai brani jazz alla musica pop. Lo spettacolo è stato allestito durante un anno scolastico nel quale non sono mancate le fragilità e le difficoltà legate alla pandemia e turbato poi dalle notizie angoscianti e drammatiche di una guerra inaspettata, che devasta e rivela ogni giorno l'orrore di cui l'umanità è capace. Nonostante ciò, nell'anno che sta per concludersi, le attività del liceo musicale sono rinate grazie alla possibilità di fare musica in presenza e all'entusiasmo dei docenti e degli studenti che hanno potuto respirare quasi una parvenza di normalità. Sono stati tanti i concerti di musica da camera e gli eventi realizzati, tutti di elevato livello, segno tangibile di una scuola che non è solo formativa ma anche promotrice di arte e di cultura sul territorio. L'orchestra, il coro e gruppi di musica d'insieme rappresentano luoghi privilegiati per la società, la condivisione di scelte, la collaborazione, la complicità e l'armonia e proprio per questo i docenti, gli studenti e le studentesse del liceo musicale hanno deciso di dedicare il concerto di fine anno scolastico alla pace.